Sì, sì, ok, ok, siete belli, siete bravi, siete anche cresciuti tanto, ma non è arrivato il momento di farvi conoscere. Sono d'accordo, su cosa puntiamo? Marketing, ragazzi, marketing! Chi potrebbe aiutarci? Chiama lei, è un po' giargiara, ma sempre sul pezzo. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.